Reggio di Calabria. Prima del terremoto del 1908, Reggio era una cittadina all'antica. Subito dopo il terremoto, fu invasa da maestranze d'ogni parte d'Italia. Sorse una città di carattere opposto, quasi interamente moderna, con le strade ampie e diritte. La si vede oggi disposta intorno ad una lineare arteria mediana, intervallata dalle piazze. La sua principale bellezza, oltre di intorni, è il lungomare, che non esisteva nella cittadina borbonica. La natura focosa fa sì che gli alberi, piantati dopo il terremoto e perciò da meno di 50 anni, sembrano già secolari. Qui cominciano ad apparire, in un'edizione gigante, quei fichi detti magnoloidi di foglia lucida, simili alle magnolie, che trionfano a Palermo. Sebbene i negozi nella strada maggiore siano di tipo milanese, la vita che si svolge in questa cornice moderna rimane calabrese. I nordici, scesi qua giù, subito dopo il terremoto, sono quasi tutti ripartiti. Vi perdura, semmai, l'influenza della Sicilia. Quei nordici del sud, ricchi di iniziativa, che sono i messinesi, affluirono al reggio inaugurandovi commerci. Se il dopoguerra abbia segnato un risveglio locale, lo rimostra un piccolo fatto. Prima non esistevano lavanderie meccaniche e si mandava a lavare a Messina. Un messinese ne aprì un al reggio. Oggi ve ne sono 60. Il reddito medio è modesto, ma esiste al reggio una cerchia di famiglie ricche, da non confondere con i famosi baroni o con i proprietari di feudi, che vivono lontano. Le case, a quanto mi dicono, sono riservate alla famiglia e agli amici più intimi. Le feste, i ricevimenti per i matrimoni o per altro, si svolgono negli alberghi. Tuttavia, al reggio si accentua una stranezza della vita meridionale. I modelli dei sarti parigini e di nuovi profumi vi arrivano prontamente. Le macchine che passano sul lungomare sono per lo più fuori serie. Esistono iniziative in difesa della cultura. Un circolo d'alta cultura, un secondo cattolico, il Leonardo da Vinci, e un terzo giovanile. Il terremoto, distruggendo la vecchia reggio, l'ha anche privata di molte opere d'arte. Sarebbe oggi di grande attrattiva il museo che ho visitato con l'ottimo sovrintendente, responsabile anche dei principali scavi sulla costa ionica, quelli di Locri. Il monumentale edificio dell'architetto Piacentini fu inaugurato nel 1934. È, con quello di Taranto, il vero museo della Magna Grecia, ricco di gruppi fittili perché la Magna Grecia lavorava molto l'argilla e pochissimo il marmo. Vi spiccano soprattutto i Pinakes, Locresi, tavolette votive di una città devota al culto di Persefone, rappresentanti spesso appunto Persefone, che riceve doni in omaggio dalle altre divinità dell'Olimpo, belle di forma e di disegno, oltre che documenti preziosi del costume. È una serie incantevole di illustrazioni ricavate dall'argilla mediante un calco. Fatto il museo monumentale, non si riuscì però a schiuderne le porte al pubblico. Soltanto adesso, dopo oltre vent'anni, ci si appresta ad aprire un'ampia sala con le opere più importanti. Se non sbaglio, i reggini rivelano una sensibilità più acuta e insieme più pessimistica delle questioni politiche ed economiche rispetto alle altre città calabresi. Si lamentava il perdurare di politicanti volubili nelle idee ed esperti nel maneggiare clientele. Il pessimismo riccheggia la lunga abitudine a vivere prevalentemente di lavori pubblici che spesso arrivano sulla scia dei disastri. Un vecchio luogo comune ripete Abbiamo due risorse, i terremoti e le alluvioni. Un'acuta coscienza porta alla depressione, che ho già notato negli ambienti intellettuali. Spesso chi si intellettualizza nel sud si sente prigioniero, diviene triste e cade nell'esaurimento nervoso. E' una situazione che cambia, ma non può essere rovesciata in pochi anni. Quella di Reggio, nel complesso, è una provincia povera, perché sulla ricchezza adunata lungo la costa, pesa la povertà del mondo, del monte, La proprietà per lo più è frantumata. Sulla costa tirrenica non si ebbero porpori, al contrario di quella ionica. La minaccia dell'Aspromonte la rende però sensibilissima al pericolo delle frane, tanto da desiderare che la maggior parte degli aiuti statali vadano alla sistemazione della montagna. Un'esposizione del punto di vista reggino mi è stata data da un economista musolino, tipico uomo di cervello meridionale. Mi ricevette circondato da figli, generi, nuore, amici, e mi impartì una interessante lezione che il parentato unito ammirava con me. Riassumendo le sue parole, fu posta in primo piano quella sistemazione idrica della montagna, di cui non si parlerà mai abbastanza. Soltanto essa potrà darci, tra l'altro, una garanzia assoluta contro la riapparizione della malaria. È da notare di sfuggita che, essendo stata la malaria debellata dopo la guerra, molti individui ne restano ancora marcati. Le statistiche dicono che in località adesso sane, quali ad esempio Gioia Tauro, un 80% degli abitanti era malarico. Le conseguenze non si possono distruggere in un batter d'occhio. Alla sistemazione delle acque della montagna deve seguire la loro utilizzazione, per formare maggiori riserve di energia elettrica e per irrigare le terre. Il problema della Calabria, già lo abbiamo notato, somiglia a quello risolto dagli Stati Uniti nella valle del Tennessee. Bisogna inoltre trasferire a valle i villaggi frananti, eliminando una ragione cronica di perturbamento e disperpero. Ma con un piano organico, fornendo le popolazioni di terra presso la nuova sede, riformato l'ambiente, come oggi ci si è accinto a fare, l'industrializzazione è divenuta indispensabile. In molte zone calabresi, per esempio, la fertile costa intorno al reggio, il reddito agricolo ormai non è lontano da raggiungere l'apice. Ed i terreni riscattati dalle opere in corso, per quanto vasti, non saranno mai pari ai bisogni di una popolazione numerosa, prolifica e avida di migliorare il suo stato. Bisogna cambiare a favore dell'industria il rapporto tra industria e agricoltura. Qui si inserisce il motivo predominante di tutto il nostro mezzogiorno, che è la protesta contro il Nord e insieme il desiderio del Nord. La protesta è diretta contro i cosiddetti monopoli che si dice sono una prerogativa del Nord, e non certo del Sud, tanto meno della Calabria. Noi dobbiamo pagare, a prezzo di monopolio, ciò che proviene dall'industria metallurgica e chimica, osservano i reggini. Ma non v'è monopolio per gli agrumi, base dell'economia locale, coi quali dobbiamo competere sul mercato internazionale. Il monopolio vige per la macchina agricola, per il fertilizzante chimico che dobbiamo acquistare, ma il prodotto è indifeso. Lo squilibrio tra il Nord e il Sud deve colmarsi, a meno che il Nord non voglia uccidere i propri mercati. Onde la necessità di un'industria del Sud, le prime aspirazioni di Reggio sono un'industria tipo cirio, che si affianchi alla produzione agrumaria, industrie sussidiarie come vetri e cartoni. Si vorrebbe un'industria del cotone, che servisse il mercato calabrese e lucano, senza passare per il Nord, ma la prima necessità è la formazione di un vero centro industriale calabrese, e il Nord rientra per la finestra. E' ambita la discesa, con ogni facilitazione possibile, delle industrie settentrionali, che accettino di incorporarsi nell'economia locale e di agire a suo beneficio. Industrie abbastanza importanti del ghiaccio, del latte e del legno esistono tuttavia a Reggio. Per la produzione dell'olio, questa è la seconda provincia d'Italia. I suoi numerosi oleifici sono attrezzati in maniera moderna. Attraversando i boschi di olivi giganti nella valle che sfocia Gioia Tauro, abbiamo osservato il paesaggio. Potevamo osservare anche i nuovissimi stabilimenti dell'Olca, nei quali si lavorano i sottoprodotti dell'olio. I centri abitati di questa plaga sono tra i più lindi ed allegri della regione calabrese. Un nuovo stabilimento per estrarre dalle sanse il furfurolo, postruito a Gioia Tauro con i 502 milioni erogati dalla Cassa del Mezzogiorno, è tra i più grandi d'Europa. A Villa San Giovanni si provvede ad ampliare lo stabilimento per la lavorazione del legno della Spromonte. A Praia Mare è in costruzione un nuovo stabilimento per la filatura della lana, pure finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno, con impianti modernissimi. Passiamo ora agli agrumi e alle essenze che, di tutto il resto, caratterizzano la provincia di Reggio. Veduta da quest'angolo, essa è fastosa, presentando una delle fortunate occasioni in cui il bello e il poetico si uniscono al lavoro umano. Se la costa ionica è stupenda per la sua grandiosa desolazione, la costa tirrenica, specie tra Reggio e il Monte Sant'Elia, con la rupe di Scilla, lo è per lo sfarzo vegetale. Ogni luogo qui è ornato, oltre che da frutti e fiori, da miti e da leggende, come la vicina Sicilia. Le olie sorgono all'orizzonte, e dal lungomare di Reggio già si scorge di sbieco l'Etna. Vi è chi ha potuto vedere la fata Morgana. In alcune mattine limpide, Messina, di là dallo stretto, sembra portarsi sulle acque davanti al Reggio, come veduta in una lente, così che si distinguono i minimi particolari. Lo sfruttamento turistico della costa, specie tra Reggio e Palmi, è cominciato ed avrà buon successo. Questo è un paesaggio euforico, lavorato metro per metro, dove il bello si tramuta in oro. Il capitale del Reggino è di frutti, fiori ed essenze. Sembra che il clima favorisca questa plaga più della stessa Sicilia. La punta estrema della penisola è, da quanto mi dicono, la parte dell'Italia che riceve più sole, simile ad uno sperone che ne attiri i raggi. Negli anni normali non vi sono improvvisi sbazzi di temperatura, né differenze estreme tra l'inverno e l'estate. Questo permette la crescita del bergamotto e favorisce i fiori che danno essenze. Il Reggino è soprattutto la terra delle essenze. Vi ho passato giorni che mi ricordano altri trascorsi tra i profumieri di Provenza. La terra e il clima si prestano perfino ai frutti esotici. I frutti vendoli di Reggio espongono nelle ceste un frutto sudamericano, la nona, che non ho visto in nessun'altra città europea. Uno dei tipici frutti del Sud America che si lasciano divenire flaccidi e da allora rinchiudono una pappa bianca di zucchero fuso aromatizzato. Non credo tuttavia che questo frutto nutriente incontri i gusti del mercato. La migliore mattina è quella che ho trascorso col professor Laface, direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi. Conservando con lui, conversando con lui, si ha l'impressione di toccare misteri naturali che sfiorano la magia. Esistono in Italia otto stazioni sperimentali del genere, cioè basate sulla produzione agraria, ma col fine di trarne sviluppi industriali. L'Italia coltiva gli agrumi su 75.000 ettari, di cui quasi 15.000 nel Reggino. E poiché questa provincia produce 2 milioni di quintali all'anno di agrumi, che rendono 9 miliardi per i soli frutti eduli e 2.600 milioni circa per i derivati industriali, essa ne ricava in totale oltre 11 miliardi e mezzo. Dei tre frutti, l'arancia, il bergamotto ed il limone, il primo copre più terreno, 10.500 ettari, ma rende meno in proporzione. Vi sono tre produzioni di arance, una precoce, lungo il versante ionico, una media nella pianura di Gioia Tauro, una terza al reggio, tardiva perché in terreno riparato, ed è la migliore e più dolce. Questi giardini di aranci, che si internano nelle valli, appaiono folti e segreti, lasciati ad una libertà naturale maggiore che in Sicilia, dove però, specie a Paternò e a Lentini, è maggiore il progresso tecnico ed intento industriale più chiaro. Esistono tuttavia anche qui coltivatori d'avanguardia. La passione per l'aranceto non è meno intensa di quella descritta in Sicilia e identica la bellezza. In più c'è il bergamotto e la tecnica del bergamotto ha raggiunto la perfezione. 300.000 quintali di frutti, 150.000 quintali d'essenza, un guadagno di 2 miliardi e 200 milioni, tali le cifre annue. Tutti i produttori di bergamotto sono vincolati per legge ad un consorzio che fa i prezzi e stabilisce la politica dell'esportazione. Il profano, appena arrivato, non distingue l'albero del bergamotto da quello del limone. Il primo è più rotondeggiante, con meno slancio verticale, ha la foglia più piccola, così da sembrare dipinto di rapidi tocchi vibratili, scuro, ma con fiammate verde ramarro. Questo agrume aristocratico si trova bene soltanto in provincia di Reggio, o meglio, in una piccola parte di essa, rifiutando il resto della superficie terrestre. In Sicilia cresce, ma non dà essenza. In Spagna ed in Florida, dove lo si è provato, è di inferiore qualità e rendimento. Nello stesso Regino, risalendo il Tirreno, si ferma a Villa San Giovanni, dopo meno di 20 chilometri, ed abbandona il campo ai più comuni aranci. Se si gira dalla parte ionica, lo si scorce in pieno vigore soltanto fino a Bova, poi si rarefà e scompare. Le ragioni di simile comportamento non sono chiare. Il bergamotto vuole un clima caldo, temperato, privo di sbalzi, anche perché i suoi frutti non raggiungono l'ottimo tutti insieme, bensì a scaglioni per tre mesi consecutivi e appena lo raggiungono bisogna coglierli. La coglitura si prolunga, perciò tre mesi. L'essenza è nello strato superficiale della buccia, in cellette dell'epidermide. La si fa gocciolare rompendole o raspandole lievemente ed ogni frutto ne dà un grammo. Per questo, odorando il frutto ancora immaturo, si rischia di bruciarsi e annerirsi la pelle. Oggi, per diminuire i costi, si è inaugurata l'estrazione meccanica in 12 impianti. Privato dell'essenza, il frutto è messo al torchio, cavandone acido nitrico ed alcol etilico. In un terzo tempo, essiccandolo, se ne ricava la pectina per la gelatina di frutta. L'essenza di bergamotto entra nella composizione dei profumi di tutto il mondo. La stazione stessa ne sperimenta alcuni. Il suo scopo non è però di far produrre profumi in Calabria, bensì materie prime per la profumeria. Oltre al bergamotto, che è il re, vi è tutta una dinastia d'essenze in provincia di Reggio. Basta nominarle per vedere sorgere paesaggi incantevoli. Gelsomino, rosa, gaggia, geranio, lavanda, salvia, basilico, maggiorana, erbangelica. La rosa è quella detta di maggio, l'essenza della gaggia al profumo dolce che fu di moda dal principio del secolo, così rara nel nord dove si coltiva in serra. Qui la gaggia cresce in siepi ed in viali o in grandi alberi punteggiati di giallo che spargono nella campagna il profumo dell'Eden. Un campo sperimentale e un'azienda pilota della lavanda sono attivi a gambarie dell'aspromonte. La lavanda cresce in montagna mentre il suo fratello minore il cosiddetto lavandino che sta tra la lavanda e lo spiccanardo viene dalle colline. Il professor Laface che mi spiega questi segreti ha una collezione di essenze mescolate alla cera rinchiuse in scatole del Settecento e le fa affiutare ad una ad una. Raffinatezze non molto frequenti quando si entra nell'ambito dell'industria. Dopo quella di bergamotto l'essenza che più si coltiva è quella di gezomino. L'Italia raggiunge la metà dell'intera produzione mondiale il 20% in Sicilia e il 30% in Calabria. Un quarto del fabbisogno mondiale viene da un piccolo comune sul litorale ionico Branca Leone vicino a Capo Spartivento. Tale modesto centro è perciò di gran lunga il maggior produttore mondiale di un'essenza che noi associamo abitualmente ai più famosi sogni esotici. La coltura del gezomino è abbastanza recente. Nel 1928 la stazione sperimentale rilevò il relitto di una bonifica. Era un terreno strano una specie di nastro largo 16 metri lungo 4 chilometri. Creata la coltivazione sotto uno stabilimento di estrazione modello si cominciò a invogliare i privati. Il barone Correale di Reggio intraprese allora l'industria del gezomino ed è oggi il maggior produttore di tale essenza nel mondo. Intanto la coltivazione si estende in Calabria e penetra anche nella vicina Lucania che si è dimostrata adatta. Per un chilo di essenza di gezomino occorrono 600 chili di fiori un rapporto discreto se si pensa che quello delle rose è da 1 a 4 o 5 mila. La delicata operazione di cogliere i gezomini non è cosa che si possa ascoltare seduti in un ufficio. Bisogna osservarla sul posto. Sono uscito perciò da Reggio dirigendomi lungo la costa ionica. Immense fiumare con lo sfondo dei monti servono anche qui di strada ma tra una vegetazione lussureggiante. Dopo Melito gradualmente le coltivazioni si estinguono. Lo stile ionico comincia. non si estinguono tuttavia quelle dei gezomini e infatti Brancaleone è più in là. L'accoglitura dei gezomini si svolge tra l'alba e le dieci quando sono ancora impregnati dalla fragranza custodita nell'ombra prima che il sole la svapori. I gezomini crescono bassi in grandi cespugli e non soltanto sono a forma di stella ma delle stelle ripetono la vicenda. Essi cominciano ad aprirsi tra le foglie al tramonto e sbocciano tutta la notte così che al mattino il cespuglio è ricoperto di un fitto stellato bianco. Molti fiori il cespuglio sembra spoglio come morto e tale resta fino a sera. Ma la sera nuovi boccioli repentinamente fioriscono la vicenda si riproduce e all'alba il cespuglio è di nuovo coperto e così per i quattro mesi che durano la fioritura e la raccolta prima di entrare nel campo si scorgono non le donne nascoste dai cespugli ma soltanto le loro mani che passano da un fiore all'altro denudando cespugli la raccolta mette al lavoro un'intera famiglia pagata a cottimo bambini compresi le donne colgono con un movimento leggero continuo e fluido delle mani per cui furono paragonate a ballerine e a farfalle mentre i bambini sfilano il gelzomino con i tocchi rapidi e bruschi di un uccello che becca i semi si coglie solamente il fiore adagiandolo in piccoli panieri i quali perciò si riempiono di una sostanza tutta bianca il campo profuma sempre più forte via via che il sole si rinforza le donne nel maneggiare i fiori mostrano una delicatezza inattesa è obbligatorio sfilarli senza la minima pressione ma con rapidità per coglierli tutti una pressione anche piccola delle dita guasterebbe l'essenza provocando il contatto e la reazione tra le varie sostanze contenute nei petali voglio concludere con queste immagini il nostro viaggio in Calabria forse la regione d'Italia che ha bisogno di più di un più assiduo e metodico intervento statale come quello che si è iniziato per riparare a secoli di negligenza la sua complessa bellezza primitiva ed insieme raffinata è per molti ancora da scoprire i viaggiatori romantici devono però affrettarsi quelli di domani vedranno una Calabria trasformata che si è iniziato